Buonasera a tutti, bentrovati a tenere i banco e non solo in Italia ma in tutto il mondo è la scomparsa di Silvio Berlusconi che si è spento a 86 anni al San Raffaele, la stessa clinica in cui era stato a lungo ricoverato per 45 giorni. Oggi il ritorno è purtroppo la scomparsa di un uomo, di un leader, di un politico, di un imprenditore, di uno statista come molti di coloro che anche noi abbiamo ascoltato desiderano ricordarlo. È chiaro ed evidente che qualunque ricordo, compresi quelli che vi proponiamo noi questa sera, rappresentano uno spicchio di tutto ciò che si potrebbe dire su questo personaggio così noto e così ingombrante nella storia nazionale. È stato sì, leader e fondatore di Forza Italia, è stato per tre volte presidente del Consiglio, è stato patron del Milan per oltre 30 anni e tanto altro, compreso il nostro mondo, quello televisivo che lui ha incarnato dal punto di vista privato e commerciale fondando Fininvest e Mediaset. Il primo che lo ricorda attraverso i nostri microfoni Antonio Tomassini, suo amico di lunga data, è stato in Parlamento e in Senato proprio a fianco di Silvio Berlusconi e con lui, per lui, ha fondato Forza Italia portandola a Varese. Sentiamolo. Antonio Tomassini ha conosciuto personalmente Silvio Berlusconi, ha lavorato gomito a gomito con lui per tanti anni, siete stati amici e tanta esperienza politica è nata con e grazie a lui. Quindi un ricordo a caldo e immaginiamo anche emotivamente coinvolto. Sono stati gli anni più belli della mia vita, più importanti, si rinnovava il paese sotto una grande guida, io sono stato tra i fondatori di Forza Italia Varese e abbiamo galoppato insieme per un lungo periodo. Cosa dire, è un grandissimo statista, il lutto è una perdita nazionale di dimensioni colossali, io per me devo dire che ho sempre goduto della sua fiducia e non è mai venuto o intervenuto nelle cose che erano di mia competenza per cercare di farmi fare diversamente. La domanda che tutti si fanno oggi è che ne sarà di Forza Italia? Forza Italia in questo momento consiste e ha delle guide, è chiaro che queste guide sono inserite nella maggioranza e altro, però è altrettanto chiaro che così come sono le condizioni potrebbero esserci trasferimenti in altre formazioni politiche. Io trovo che quelle così fisiologicamente più vicine al pensiero sono quelle sicuramente del gruppo che ancora è dell'ex socialismo e sicuramente è quella di Matteo Renzi. Senza Berlusconi esisterà ancora secondo lei un bipolarismo come lo abbiamo conosciuto in quasi 30 anni? Io prevedo che il bipolarismo sia sicuramente una carta vincente in cui siano chiare le appartenenze e il modello di sentire, questo è molto più facile per il centro-destra anche storicamente, credo che sia impossibile nel centro-sinistro attuale. E ancora un politico di lungo corso come Gigi Farioli, esponente Bustocco che negli ultimi anni si era allontanato da Forza Italia ma non dalla stima che lo ha legato con il leader Berlusconi per tanti anni. Ecco la sua voce. Io non nasco con Forza Italia, eppure in un mondo in cui oggi tutti cercano di avere i loro quelli vicini, ebbi la grazia, l'onore e la gloria di essere conosciuto da lui, stimato da lui e voluto da lui capogruppo in regione Lombardia pur non essendo dei tra virgolette suoi. Ho avuto modo di apprezzarne la lungimiranza, l'umanità, la generosità, la passione. Ho avuto modo anche, sorridendo, di valutarne gli aspetti più curiosi. Oggi però è dovere per chiunque, per noi, inchinare il capo e soprattutto ricordare che Berlusconi avrà commesso come tutti grandi errori. È stato grande in tutto, ha segnato la storia italiana e per certi versi è una parabola degli italiani e delle storie italiane. Grazie Presidente, io devo molto a Silvio Berlusconi. Probabilmente, pur essendo in politica da sempre, mai sarei stato sindaco della mia città se Berlusconi non avesse voluto, fortemente voluto, che io lasciando la regione fossi candidato per l'allora centrodestra a Busto Arsizio. Io devo molto. Fu il primo a chiamarmi quando la seconda volta, unico sindaco di Forza Italia eletto al primo turno nel 2011, mi abbracciò e mi disse Gigi ti voglio bene. Mi piace ricordarlo mentre mi abbracciava a Propatria Monza, mentre anche recentemente mi diceva di fronte ai miei tormenti, Gigi so che tu sei una persona onesta, sei intelligente, sei per bene, ambi la libertà, io comunque sarò sempre con te. Lo abbraccio, è nella storia e comunque la storia renderà merito della sua grandezza. E chi invece da tanti anni milita in Forza Italia e non ha alcuna intenzione di andarsene è il varesino Simone Longhini che oggi è vice commissario provinciale e che dice se ne va lo statista ma non le sue idee. Ciò che ci ha lasciato Silvio Berlusconi camminerà con noi. Oggi ci lascia un grande uomo, un grande imprenditore, un grande statista che nella sua vita ha davvero lasciato un'impronta indelebile ma non solo nella sua vita privata, soprattutto nella vita pubblica del nostro Paese. Credo che anche i detrattori riconoscono i suoi meriti, riconosceranno i suoi meriti. La storia darà ragione anche a tante critiche forse ingiuste che ha subito nel corso della sua vita. L'impronta che ha dato al nostro Paese sarà un'impronta che resterà per sempre nei valori che ha insegnato e nei valori di libertà che ha portato avanti con il suo esempio. Credo che una comunità politica come la nostra possa e debba seguire le sue impronte e credo che tutti noi oggi viviamo un momento di grande dolore ma anche la serenità di sapere che i suoi valori cammineranno anche sulle gambe di altre persone nel prossimo futuro. E poi tanta gente comune perché se c'è una cosa sicura è che Silvio Berlusconi è stato anche un grande personaggio dal punto di vista della popolarità. Allora questa mattina le nostre telecamere hanno gironzolato per il centro di Varese raccogliendo qualche reazione a caldo. A me spiace molto che sia morto Berlusconi. Al di là delle idee politiche che peraltro erano le sue idee ma mi spiace molto. Basta tutto quello che ho da dire. Lo so appunto adesso e mi spiace. A me spiace molto e lo trovavo un personaggio veramente importante e interessante. Io Berlusconi l'ho conosciuto quando ha fatto Milano 2. Io ho una certa età, me lo ricordo benissimo. Una persona squisita. Le dico quando capitava di contattarlo. Quando parlava veniva voglia di continuare a parlare. Una persona escezionale. Apprezzo Berlusconi come uomo, come imprenditore. Come politico certamente la pensa in maniera diversa sotto certi aspetti. Però in ogni caso ha dato all'Italia. Ricordo di Berlusconi il tentativo fatto a pratica di mare. Probabilmente oggi in molti si mangiano le mani di voler coinvolgere la Russia in un contesto europeo. Non comunitario europeo come lo si intende oggi ma europeo. Dal punto di vista di Berlusconi. Era uno che ci vedeva a lungo. E poi appunto l'abbiamo citato. Patron del Milan per 31 anni con quasi 30 trofei. Successi assolutamente indimenticabili. Un'epoca d'oro con tanti campioni e tante vittorie. Che vi raccontiamo così. Silvio Berlusconi, imprenditore politico, fondatore di Forza Italia e soprattutto uomo di calcio. È stato presidente del Milan dal 1986 al 2017. Rileva la società rossonera il 20 febbraio 1986 salvandolo da un fallimento che sembrava certo e la lancia tra quelle più blasonate al mondo conquistando 29 trofei ufficiali in 31 anni. Il suo Milan vince otto campionati italiani, una Coppa Italia, sette supercoppe italiane, cinque Champions League, due coppe intercontinentali, cinque supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Con l'amico di sempre Adriano Galliani ottiene successi e consensi. Lancia giocatori e tecnici. La sconfitta di Coppa Italia in casa con il Parma di Arrigo Sacchi lo spinge a puntare sull'allenatore di Fusignano. Il calcio totale di quel Milan porterà la UEFA a definirlo una delle più forti squadre di club di sempre. Noi tutti quanti ci siamo impegnati al massimo ma nessuno di noi aveva sognato di avere i riconoscimenti che abbiamo avuto adesso di essere la più grande squadra di tutti i tempi. Ma in Italia quando? In che cosa? Si è sentito dire che siamo i più grandi di tutti i tempi. Un presidente! Berlusconi torna al mondo del calcio nel 2018 quando rileva il Monza. Si tratta di un altro appuntamento con la storia. Per la prima volta i Brianzoli raggiungono la A dopo una scalata cominciata in quarta serie. E qui chiudiamo ma solo per il momento la pagina doverosamente dedicata alla scomparsa di Silvio Berlusconi. I funerali come sapete saranno di Stato e si celebreranno il Duomo di Milano. E naturalmente noi continueremo a parlare di questo grande personaggio, della sua eredità anche politica. Perché poi è evidente che si crea un vuoto e questo vuoto andrà in qualche modo colmato. Ma ci sarà tempo di parlarne più avanti. Adesso invece torniamo alla notizia di Cronac, di casa nostra. Il maltempo, l'ennesima ondata che ha infierito e picchiato duro sul Varesotto con pioggia, vento, grandine. Ecco un riassunto. Oltre 120 chiamate di soccorso in un'altra ennesima serata folle come quelle che solo il maltempo riesce a provocare. È successo anche domenica con decine di alberi abbattuti da pioggia torrenziale, grandine sferzante, raffiche di vento. Una parte di Gazzada è finita letteralmente sott'acqua con cumuli di grandine simili a piccoli iceberg. Vigili del fuoco al lavoro in tutto il territorio con oltre 10 squadre impegnate su strade, tunnel e tetti. A Castronno l'area del distributore dell'autostrada è finita sommersa impedendo alle auto presenti di riprendere la marcia. Danni anche a Malnate, Bugugiate, Vedano, Lona e Su, fino a Gaggiolo e Vigiu. Piccola parentesi dedicata a Malpensa perché dopo la rabbiosa reazione di Confindustria e l'altrettanto polemica reazione del presidente della regione Fontana, alla notizia della bocciatura da parte del Ministero dell'Ambiente dell'ampliamento dell'area cargo, si aggiunge alla voce di Marco Margarini, presidente della provincia. Un danno incalcolabile per l'economia del nostro territorio. Mi chiedo a cosa siano serviti, dice Margarini, mesi e mesi di incontri, confronti, tavoli e dibattiti con gli attori istituzionali del territorio. Tutto ciò che è stato deciso in quelle sedi di fatto decade per volere del Ministero. Quindi una situazione davvero molto tesa. Adesso voltiamo pagina e andiamo a parlare di impegno sociale e solidale. Andiamo a Varese dove più di 700 persone hanno partecipato alla grande giornata di Villaponti con l'audiovestibologia e Aguava. Oltre mille soci, più di 700 presenti a Villaponti per celebrare i tanti traguardi dell'audiovestibologia di Varese e quelli solidali di Aguava, braccio associativo del reparto ospedaliero. E oggi è proprio un segno, il numero che siamo qua presenti oggi fa capire quanta gioia, quanta amore c'è tra il personale che vi lavora e il paziente dall'altra parte. Presenti anche ospiti dalla Sicilia per una giornata che ha alternato momenti scientifici e reso conti storici con l'ex numero uno Sandro Burdo e l'attuale direttrice Liana Cristofare. Abbiamo tanti giovani che sono arrivati a Varese per lavorare con noi e quindi speriamo che il futuro dell'audiovestibologia sia roseo ma soprattutto non ci manca l'energia per credere che potremo continuare con il sostegno delle associazioni, della regione, dello Stato perché questo centro di eccellenza è un centro che ci ha dato tanta soddisfazione negli anni. Tra le parole d'ordine più volte risuonate il valore di una continua e aggiornata formazione. Non soltanto del personale sanitario che si occupa appunto della sordità ma soprattutto di quello che avviene al di fuori nel mondo scolastico per esempio quindi il rapporto con il mondo del lavoro e il mondo della scuola. Significativa la presenza delle autorità intenzionate a proteggere un esempio virtuoso di sinergia pubblico-privato. La tutela del scomparto sanitario rientra a pieno titolo nel compito della Guardia di Finanza. Alla fine della giornata condotta dal milanese imbruttito Germano Lanzoni, amico di Varese e dell'audiovestibologia restano gli obiettivi, quelli che in questi anni hanno fatto davvero la differenza per migliaia di famiglie. È l'obiettivo di curare bambini di tutta Italia ma anche gli adulti. E a proposito di impegno sociale, nei giorni scorsi Lions Club hanno consegnato un cane guida a un non vedente nell'ambito di una grande cerimonia al Palace Hotel di Varese. Pensate che con questo il numero di cani consegnato in oltre 60 anni dal centro cani guida dei Lions arriva a 2280. Difficile non emozionarsi di fronte a due occhi che si spalancano restituendo luce e cammino a chi vive nel buio. È proprio questa la sensazione provata da Tino Darigo che ha ricevuto dai Lions questo splendido cane guida addestrato nello storico e unico centro di limbiate che dalla sua fondazione ha consegnato in tutta Italia più di 2204 zampe. Siamo a 2280 cani consegnati gratuitamente in tutta Italia dal 1959 alla fine di maggio. Questo è già un traguardo importantissimo che veramente mi rende orgoglioso ed è vero orgoglioso anche tutti i Lions italiani che ci danno una mano anche loro. Tutt'altro che semplice l'addestramento degli splendidi esemplari che imparano a diventare parte integrante di una nuova quotidianità. L'addestramento incomincia praticamente da quando il cane nasce fino ai 4 mesi è seguito dal personale nursery, i miei colleghi che si occupano della nascita e delle prime operazioni di manipolazione, gli insegnano a stare al guinzaglio, i primi esercizi. Dopodiché il cane viene affidato a delle famiglie volontarie, famiglie che si chiamano puppy walker e questo è il periodo forse più importante per quello che è lo sviluppo del cane. Un plauso ai Lions Varese Sette Laghi del presidente Pietro Cirincione e ai club Europe Civitas e Varese Prealpi che lo hanno affiancato nella magnifica serata del Palace Hotel celebrando ancora una volta il valore della speranza e l'importanza del dare. Sembrava un'indiscrezione ma poco fa è stata confermata. Il città di Varese ha scelto Corrado Cotta come nuovo allenatore dei Biancorossi. Merito della sua esperienza, dice Patrona Rosati, sono onorato e lusingato, risponde Cotta che nel suo curriculum conta anche le panchine di Caronnese e Castellanzese. E a proposito di Varese Calcio c'è un po' di Biancorosso anche in vicende legate alla Serie A come quelle del Verona e del Cagliari. Il Verona vince 3-1 lo spareggio di Reggio Emilia con lo Spezia e si salva costringendo alla Serie B i Liguri. Protagonisti dell'impresa il direttore sportivo Sean Sogliano, ex Varese, come il team manager Sandro Mazzola e l'allenatore Marco Zaffaroni che ha giocato a Saronno, Solbiatearno e Busto Arsizio. Nella stessa sera in cui Leonardo Pavoletti con un gol al 94esimo segna a Bari la rete decisiva per la promozione in A del Cagliari. Lui che nel campionato di Serie B 2013-14 ha salvato il Varese dalla retrocessione con 20 gol. 4 al Novara solamente nelle due partite di play-out. Gli appassionati di calcio della nostra provincia hanno avuto modo di ricordare momenti di gioia sportiva sperando che possano tornare presto con nuovi protagonisti. Sul fronte della pallacanestro invece si vocifera che Michael Arceri potrebbe lasciare Varese per approdare a Trieste i dettagli. Michael Arceri a Trieste E questa è la notizia con cui si è svegliato il mondo della pallacanestro Varese sorpreso e preoccupato dalla possibilità di ritrovarsi senza general manager a metà giugno in pieno mercato. Dalle prime ricostruzioni si registrano incredulità e stupore dalle stanze societari biancorosse dove la notizia sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno spiazzando un po' tutti, in particolare Luis Cola ora in Messico per seguire il figlio Thomas impegnato nella FIBA America Sander 16 ma anche il neopresidente Toto Bulgaroni. Il GM biancorosso sarebbe pronto a sposare il progetto USA di Richard Emeo in terra giuliana, in A2 lasciando così Varese dopo un anno e mezzo di gestione. Possibile però che in casa Varesina nessuno sapesse nulla fino a stamattina? Arceri sarebbe sotto contratto? Come potrebbe liberarsi nel caso? Domande, dubbi, nubi sul cielo di Masnago e sul mondo biancorosso che si ritrova al 12 giugno con la fortissima possibilità di dover ricostruire tutto un progetto da capo in una situazione surreale che, dopo la penalizzazione, rischia di minare ancora di più quell'idilio che l'annata appena passata sembrava aver creato ai piedi del Sacromonte. E chiudiamo la pagina sportiva con il pienone del Palain Subra a Varese. Nel fine settimana un centinaio di persone hanno partecipato al torneo nazionale di Ludo Sport. Vediamo di cosa si tratta. Spade luminose, duelli da film, movimenti agili e scattanti. Nato come una sfida per appassionati di Star Wars, il Ludo Sport ha piantato radici e fatto proseliti complice a una realtà tutta Varesina come Porta dei Laghi che ha organizzato l'evento del Palain Subra. Un network sempre più internazionale che si sparge in più di 20 nazioni e 4 continenti ed è una cosa interessante che è tutto italiano, dall'idea proprio di questo sport anche alla produzione del materiale di combattimento, le spade e anche le divise stesse è una produzione tutta italiana che viene esportata in giro per il mondo. Ed ecco a Varese oltre 60 atleti provenienti da tutta Italia per una giornata di sport e passione. Sono molto legato a questo palazzetto perché è della mia università in cui studio scienze motore quindi sono contentissimo di aver portato qui questo evento. Ed è tutto anche per lo sport, io mi fermo qui, il TG torna domani, grazie e buona serata a tutti. A tutti una buona serata, le previsioni per domani. Al mattino cielo nuvoloso con progressive schiarite, residui rovesci in esaurimento sulla Lombardia occidentale dopo i probabili temporali della notte, nel pomeriggio più soleggiato ma sempre con possibilità di qualche temporale lungo i rilievi. Le temperature massime in leggero calo rispetto ad oggi attorno ai 24-25 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.